Io guardo già la fase successiva che è oltre la visita, è un territorio, quello del Veneto, che paga 21 miliardi di tasse all'anno, una delle poche regioni con residuo fiscale attivo. Queste tasse debbono restare qua, non possiamo ancora assistere agli sprechi che ci sono. I temi sui quali ovviamente bisognerà ragionare con il nuovo governo sono quelli dell'occupazione, dei contenziosi collettivi, sono quelli delle infrastrutture e soprattutto quella della diminuzione della pressione fiscale e del lavorare sul cuneo fiscale. I nostri imprenditori, i nostri 600 mila imprese, sono degli autentici eroi, cioè non si riesce più a stare sul mercato. Ebbene che Roma questo lo capisca. In effetti è una delle sue carri di battaglia di Renzi, questa dell'abbattimento del cuneo fiscale. Noi siamo abituati a grandi enunciazioni, le abbiamo viste con Monti, le abbiamo sentite con Letta, adesso le sentiamo nuovamente con Renzi. Direi che finirà anche questa luna di miele come sono finite le altre due e dopo di che passeremo i fatti. Noi amministratori siamo chiamati a rispondere concretamente. Se tu dici che apri gli ospedali di notte, li devi aprire, non puoi dire a continuazione che li apri di notte e poi non li apri. Un ex amministratore locale, questo potrebbe favorire il dialogo soprattutto con il territorio secondo lei? Guardi, gli amministratori hanno l'obbligo della concretezza, lo dice uno che ha sempre fatto l'amministratore. Ovviamente la concretezza ti porta a dire che poi devi vedere i risultati, favorisce, non favorisce, questo lo staremo a vedere. Per noi ci sono dei risultati che sono misurabili, che sono quelli della pressione fiscale, che sono quelli delle opere a tutela di sesto ideologico, che sono quelle dell'occupazione. Da noi le imprese se ne vanno e vanno in territori dove non si paga il 68,5% di tasse ma si paga il 25% come i carinzi. Beh, diciamo che sono persona concreta, guarda con obiettività le cose, valuta le proposte e dopo di che vuole vedere i risultati. Noi veneti siamo pratici, vogliamo vedere i risultati. Un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro, un pasto in giro per l'Italia arriva a costare 60-80 euro. Direi che questo è il punto di partenza, o fa pagare gli spreconi guardando la latitudine, anche pensando al sud dove abbiamo 4 regioni che hanno 5 miliardi di buco alla sanità, oppure vuol dire che anche qui siamo a livello della solita patuglia acrobatica che poi i risultati non li dà. Il punto di partenza è la crisi, 170 mila disoccupati ma il vero riferimento sono le 600 mila imprese che creano occupazione, creano ricchezza, quella ricchezza che si traduce in 21 miliardi all'anno che paghiamo a Roma. Quindi a Renzi ho detto che quei 21 miliardi prima devono tornare a casa e dopo di che bisogna fare in modo che tutti vivano in maniera virtuosa come i Veneti. Se si applicasse la virtuosità dei Veneti bisognerebbe licenziare mezzo milione di dipendenti pubblici in giro per l'Italia e costringere tutti a lavorare in maniera seria, il che vorrebbe dire 30 miliardi di risparmi da dedicare all'occupazione e alla ripresa dell'economia. E non è un caso che lei abbia posto a Renzi la questione del sud, c'è Mezza Italia in default? Beh sì, io questo l'ho detto davanti a tutti gli imprenditori ed è stato molto ben gradito il riferimento. Noi abbiamo Mezza Italia che è tecnicamente fallita da libri in tribunale ed è bene che sappiamo che questa Mezza Italia deve essere riportata in bonus nell'alveo della sostenibilità ma bisogna dire a questi signori che non funziona più che si prema Caino e si punisce Abele. Qui Abele deve essere accarezzato e coccolato perché paga il conto per tutti e Caino deve essere messo giù a lavorare. Grande imputato in questi incontri il patto di stabilità, lei come la pensa? Penso che è un'autentica schifezza, è un'invenzione tutta italiana e la regione del Veneto ha 1 miliardo e 300 milioni di euro che sono soldi freschi nostri, dei Veneti, bloccati presso la tesoreria nazionale e poi lo Stato ci presta 1 miliardo e 4 per il pagadebiti, quindi per pagare i debiti verso i fornitori e ce lo presta al 3,5%, allora 1 miliardo e 3 nostro ce lo blocca a tasso zero e ci presta di fatto i nostri soldi 1 miliardo e 4 al 3,5%, questo è uno Stato usuraio. Considera plausibile il ragionamento che comincia a girare di un blocco, sblocco anche parziale del patto di stabilità? Beh l'abbiamo sentita tante volte questa partita, io ormai guardo solo i fatti, cioè gli annunci non servono più quindi i fatti, i fatti concreti, del resto siamo veneti.